Una zampata da urlo e sirena della vittoria. Grandi emozioni ieri per l'ultimo giorno dell'entusiasmante Eurobeat Soccer League dove Marrucci allo scadere proprio all'ultimo secondo ha mandato in delirio il pubblico catanese all'Arena Beach. L'Italia trionfa battendo i titanici russi attuali campioni del mondo. Tre tempi tirati senza gollo i primi due ed un terzo periodo da urlo con occasioni azzurre fino alla gioia finale. La rete del vantaggio dell'Italia come dicevamo arrivava a metà del terzo tempo dopo l'ennesimo prodigioso intervento di Budischi. Era Corosiniti a trovare un tiro a giro alla Del Piero per il vantaggio. Ma subito al pronti via la Russia non ha mollato e si è regalata il pareggio. Nel finale gli azzurri hanno premuto vedendo una Russia stanca sfiorando più volte la rete con il doppio palo di Ramacciotti fino al secondo finale. La stoccata proprio di Marrucci una stoccata da urlo. Finiva così la prima tappa dell'Euro Beach Soccer League. Italia a punteggio pieno con Francia, Olanda e Russia battute. Nove punti ma vittoria di tappa per differenze reti. Andata alla Svizzera ma vince soprattutto Catania e la macchina organizzativa con una sinergia perfetta tra la Beach Soccer Worldwide, presieduto poi anche dal Cobb di Santirando e la società etnea del Catania Beach Soccer. Adesso altri due capitoli internazionali per l'Italia dove gli azzurri dovranno cercare di staccare il pass per la fase finale in Spagna a metà agosto. Grazie. 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 Grazie.